Con l'avvicinarsi del contagio zero in regione Campania, ieri sono stati quattro i casi registrati. Anche per Cilento e Vallo di Diano continua una situazione di stabilità e di calma che sta permettendo praticamente a tutti l'inizio di questa ripresa dall'emergenza coronavirus con buoni risultati. Dopo l'importante azione di screening della popolazione portata avanti da tutti i paesi del Diano, anche un buon numero di paesi cilentani si avvia all'inizio di questa procedura di prevenzione dal virus che in un certo senso dà sicuramente tranquillità a tutti. La regione Campania continua la collaborazione con l'istituto zoo profilattico meridionale e la scorsa settimana ha svolto una notevole operazione di screening a Vallo della Lucania che ha compreso cittadini non solo del centro cilentano ma anche dei comuni limitrofi come Cannalonga, Moio, Ceraso, Cuccaro, Futani, Montano Antiglia, Laurito, Perito, Orria, Omignano, Salento, Stella Cilento, Ascea e Gioi Cilento. Il cilento vuole essere sinonimo di sicurezza.